Più controlli sui luoghi di lavoro, specie nei cantieri edili. Torna a chiedergli la Willa Bruzza, l'indomani della morte di Ibrahima Dramei, il 24enne precipitato nei giorni scorsi da un'impalcatura a Teramo. Intanto, lunedì la procura dovrebbe conferire all'anatomo patologo Giuseppe Sciarra l'incarico per l'autopsia e non è escluso che, contestualmente, possa emettere gli avvisi di garanzia per il titolare dell'impresa, il direttore dei lavori e il responsabile della sicurezza. In questo modo, gli indagati potranno nominare un perito di parte che assisterà l'autopsia. Un atto dovuto, insomma, in vista di un passaggio importante nella ricostruzione dell'accaduto. Gli inquirenti, in particolare, stanno tentando di capire se possa essere stato un cedimento improvviso del ponteggio a causare la tragedia e come mai il senegalese fosse senza imbracatura. Rimasto miracolosamente illeso, invece, un collega di Ibrahima, un 43enne di Atri, anche egli volato giù da 10 metri ma finito su un'impalcatura sottostante. I due stavano lavorando nel cantiere per la ricostruzione post-sisma della chiesa di Sant'Agostino, cantiere ora finito sotto sequestro. Tutto questo denuncia ancora la Villa Abruzzo, mentre il nuovo codice degli appalti, invece di aumentare i controlli e le ispezioni, abbassa ulteriormente la soglia di verifiche e, di conseguenza, anche il livello di sicurezza.